ci deve essere di più nella vita oltre a scopare in giro a scopare in giro il sesso a me non soddisfa il sesso a me non soddisfa linda eri gireremo insieme la prossima scena ah sei tu è un piacere conoscerli ma non ti chiami il mio nome d'arte a dick long ma questo per ovvi motivi lo sai hai capito ho capito è un gran business non credi e comunque sono passato solo per presentarmi prima di iniziare le riprese è tutto bene sono un po nervosa non ho mai recitato in un film prima d'ora facciamo il lavoro più bello del mondo dobbiamo solo estragnarci da tutti e vivere il momento come se fossimo le uniche due persone su questo pianeta estragnarci da tutti e vivere il momento esatto andrai alla grande non vedo l'ora di lavorare con te non vedo l'ora di lavorare con te